Buongiorno a tutti, qua al comunale di Casalbordino il clima è bello caldo nonostante la pioggia che purtroppo sta ancora falcidiando il campo. È uno scontro al vertice, il Passo Cordone ha già giocato e quindi premi in classifica, quindi scontro direttissimo tra il Casalbordino e il Penne. Vinca è il migliore. Grazie. Due squadre forti, il campo dirà chi è la più forte, spero il Casalbordino. Niente, peccato che mancano delle pedine fondamentali, qui dietro di me c'è Peppe Soria, però i ragazzi che vanno in campo sanno quello che devono fare, quindi forza Casalbordino perché ha una bella squadra e un grande mister. Salve, buona giornata a tutti e buona partita. Siamo di con i supporters. Cristian. Clemente. Spero che sia una bella giornata. Sì, siamo molto agitati adesso, prima della partita, non riusciamo neanche a parlare. Aspettiamo l'esato dell'incontro, speriamo bene per il Casalbordino. È una giornata storica per questo paese perché non siamo mai arrivati a questo punto, speriamo di vincere. Dietro di noi c'è il bomber del Casalbordino, purtroppo infortunato, Peppe Soria. Buongiorno a voi, guarda, mi stai facendo rosicare perché il giorno sto là in mezzo, quindi speriamo in una bella partita da ambo le parti, ma comunque io mi auguro di vincere questa partita per continuare a sognare con me in campo. Oggi è una partita molto importante perché per la prima volta il Casalbordino ha toccato questi livelli e sono orgoglioso di allenare la Juniors di questa squadra e spero che vada tutto bene. È un grosso in bocca al lupo a questi colori. Allora, un doveroso ringraziamento va innanzitutto a Mariangela Osvaldo di Pizza Taxi di Casalbordino e un grazie veramente di cuore per avermi aiutato oggi a preparare le scrippelle che venderemo oggi qui nella giornata di penne Casalbordino per raccogliere fondi per il defibrillatore. Grazie, grazie, grazie. Ancora Mariangela Osvaldo di Pizza Taxi.